Mettiamo anche questo, stasera, questi tre mascoli che ci sono rientrati, top! Uno è Lucio Delivio, uno eh, che adesso è stato qua, e due se ne vuoi. Vai, fungiglio! Non c'è un Vito sube la trazione, tutto, tutto pericinivamente, non lo so, pieno, pieno come in più, una lungura, non lo so, perché la tengo una segra parte, non c'è un Vito, so, liamo ancora fuori, in Vito sui, lui, vai, vieni, giocherò, Grazie per la visione! 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 Aldo, ti sento in basso? Aldo, ma che stai spento o non porti niente? Aldo, ti sento veramente in basso? Dove sei? Grazie per la visione! Giustamente si sta poi abbassando sia di segnale sia di... 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 di altitudine... tutta roce... Grazie per la visione! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.